Secondo quanto riportato da Market Report Laghi, realizzato da Engel e Volkers, ci sono chiari segnali di ripresa per il mercato immobiliare del Garda. Di fatto crescono le compravendite e calano i prezzi. Un'interessante domanda nazionale ed internazionale concentra la sua attenzione su ville fronte lago o appartamenti di ampia metratura con vista panoramica. Le abitazioni principalmente richieste sono quelle ristrutturate o in ottimo stato. I dati confermano l'interesse turistico che ruota attorno alla zona del Garda. Infatti l'80% degli immobili viene acquistato come seconda casa, l'11% come prima casa e il 6% a uso investimento. L'acquirente è in netta maggioranza straniero, l'85% del totale e principalmente di nazionalità tedesca. Recentemente sembra crescere anche l'interesse nel mondo degli acquirenti arabi, attratti da complessi residenziali di alto livello. Gli italiani sono invece affascinati dall'alta qualità della vita che offre la zona del Garda. I numeri dicono che le compravendite del Garda sono aumentate del 10,4% dal 2014 al 2015. Per quanto riguarda i tempi di vendita si parla di circa 12 mesi per vendere una villa e dai 6 ai 12 mesi per un appartamento. Il valore degli immobili nuovi si aggira tra i 5.500 e i 6.500 euro al metro quadro, mentre per gli immobili usati e abitabili, sempre in posizioni di pregio, il costo scilla tra i 3.800 e i 4.500 euro al metro quadro. Per le ville site nelle migliori località fronte lago, i prezzi ruotano attorno ai 3 milioni di euro, per scendere fino ai 600-700 mila in zone meno ricercate.